La segretaria del Partito Democratico ha fortemente criticato il governo Meloni riguardo al nuovo PNRR. Durante un'intervista con il quotidiano La Repubblica, Ellie Schlein ha sollevato diverse critiche nei confronti dell'esecutivo e della Premier. Vediamo il Parlamento costantemente emarginato ed esautorato. Nonostante il provvedimento riguardante la gestione del piano preveda una discussione e un voto di indirizzo preventivo da parte delle Camere in caso di modifiche, ha dichiarato la Schlein. Poi ha aggiunto, da mesi stiamo pressando il governo perché venga a riferire in aula per aggiornarci sull'attuazione. Ci sono due Giorgia Meloni. Una è quella del video di ieri, in cui annuncia un ampio piano di prevenzione del dissesto e cura del territorio. L'altra è la leader del governo che riduce i finanziamenti del piano nazionale di ripresa, già preventivati proprio per tali obiettivi. Questa è la dura critica della segretaria del Partito Democratico, e tu cosa ne pensi? Iscriviti al canale.